L'emergenza sanitaria non ha intaccato il flusso dei clienti italiani negli agriturismi della Versilia. Il bilancio è positivo per le strutture che uniscono produzione agricola e servizi turistici. Secondo la Confederazione Italiana Agricoltori della Versilia, i mesi estivi hanno infatti regalato il tutto esaurito nonostante il periodo. Non solo siamo in linea con gli anni passati, fa sapere il responsabile Massimo Gai, ma si è verificata anche una crescita del soggiorno con alcune prenotazioni anche di un paio di settimane. A premiare le strutture sarebbero stati, oltre alla vicinanza a mete di interesse culturale, anche e soprattutto gli ampi spazi a disposizione nella natura. Ecco dunque che l'agricoltura non solo diventa un presidio per il paesaggio, ma anche volano per l'economia dei territori, andando ad attrarre una parte di turismo che sceglie strutture lontane dai grandi numeri. Possiamo tracciare un bilancio relativamente di fine stagione, anche se certe strutture ovviamente lavorano un po' tutto l'anno per la loro bellezza, però il bilancio è abbastanza positivo a dispetto di un inizio di stagione della quale avevamo molta paura, perché queste strutture in questa stagione in particolare hanno saputo unire la bellezza del paesaggio, le tradizioni e la sicurezza e la tranquillità di un riposo in mezzo alla natura.